a parlare a terra di fuoco si porta assai oggi sta mucca tutta sta terra di guaio a parlare amici su tutto professionista cantante attore gente comune e giornalista come al solito in italia tutto bravo a parlare ma poco su quello capace di testimoniare cari amici questa bella parola testimonianza l'unica che oggi ci può dare poche speranze a terra di fuoco che causa morte e dolore è una ferita che fa sanguinare tante nel cuore e mentre noi stiamo insieme a parlare qualcuno i rifiuti tossici stasera sta bruciando se ognuno si sta zitto rimane indifferente e città nostra non c'è niente chi va sta parlando stasera carissimi amici questo disastro ambientale non è felice e come sapete se non si ferma questo orrore noi che figli siamo condannati d'umore se volimmo ritornare a terra felice e alla pace mettiamoci insieme se ne siamo capati